8 segni che rivelano la necessità di vitamina D fin dall'infanzia i tuoi genitori, insegnanti e medici ti ripetono prendi le vitamine mangia questo che ha questa vitamina bevi che ti darà quell'altra vitamina bene, questi consigli non vengono dati per puro caso una carenza vitaminica può comportare un enorme problema alla salute oggi ci stiamo concentrando sull'importantissima vitamina D quali segni ne mostrano una carenza? quanto è grave il problema e cosa puoi fare per ottenerne di più? continua a guardare per scoprirlo assicurati di fare clic su iscriviti e suona il campanello per le notifiche per unirti a noi sul lato positivo ora diamo un'occhiata ad alcuni sintomi comuni di una carenza di vitamina D a partire da numero 1 sudi troppo certo sudare è una cosa normale specialmente se hai appena fatto una lunga corsa o è una giornata particolarmente calda la sudorazione che può sembrare eccessiva o non provocata da qualcosa di particolarmente ovvio tuttavia può significare che hai una mancanza di vitamina D se noti che stai sudando eccessivamente anche se non fa così caldo dovresti consultare un medico per quanto riguarda i neogenitori vale la pena notare che i bambini che sudano eccessivamente potrebbero avere una carenza di vitamina D numero 2 spesso le tue ossa fanno male quando si invecchia è abbastanza comune sperimentare dolore alle articolazioni e alle ossa ma il dolore osseo può essere un segno di una carenza di vitamina D probabilmente hai sentito che per avere ossa forti hai bisogno di calcio beh, non può fare molto senza l'aiuto della vitamina D senza la vitamina D le tue ossa non possono assorbire la quantità necessaria di calcio per creare del tessuto osseo sano causando un indebolimento delle ossa noto come osteomalacia questo può portare a una sensibilità delle ossa che può provocare fratture, malattie ossee come l'osteoporosi numero 3 hai dolori muscolari hai mai notato che i tuoi muscoli si sentono doloranti e ti ci vuole un po' per tornare alla normalità dopo un allenamento? questo è abbastanza normale poiché l'esercizio fisico provoca microscopiche lacerazioni nelle fibre muscolari che richiedono un certo tempo per guarire tuttavia, se ti senti in muscoli doloranti e per un lungo periodo di tempo potrebbe essere perché non stai ricevendo abbastanza vitamina D oltre a dolori alle ossa ed ai muscoli una mancanza di vitamina D può causare dolore cronico in tutto il corpo questa condizione debilitante è nota come fibromialgia e rende la vita un incubo per coloro che ne soffrono numero 4 ti ammali spesso quest'anno ti sei ammalato spesso? può essere perché una mancanza di vitamina D sta causando il malfunzionamento del tuo sistema immunitario nel suo studio del 2011 la dottoressa Cynthia Aranao dell'istituto Freinstein per la ricerca medica ha scoperto che la vitamina D non si limita a contribuire alla salute delle ossa fide che le cellule del sistema immunitario erano in grado di sintetizzare quando esposte alla vitamina D che cosa significa? Aranao crede che le persone con malattie autoimmuni potrebbero essere trattate con la vitamina D quindi, la prossima volta che la stagione fredda porta l'influenza assicurati di essere preparato ed avere molta vitamina D nel corpo numero 5 non riesci ad avere abbastanza energia sono le 4 del pomeriggio e hai la sensazione di avere le palpebre pesanti come mattoni e avere a malappena la forza di alzarti dalla scrivania ti suona familiare? ci potrebbero essere parecchi motivi per questa sensazione come stare sveglio troppo tardi la sera prima ma può anche essere dovuto ad una carenza di vitamina D se ogni giorno ti senti insolitamente stanco e non riesci ad uscirne potrebbe valere la pena parlare con il tuo medico so che è un piacere ma fare affidamento sul caffè non è sempre la soluzione migliore numero 6 quando ti tagli o ti vengono lividi impiegano un'eternità per guarire ti sembra che le tue ferite e i lividi pieghino più tempo a guarire di quelli degli altri? ci potrebbero essere un paio di ragioni a volte le persone che fumano sperimentano una guarigione più lenta a causa dei bassi livelli di ossigeno nel corpo provocati da questa cattiva abitudine ma questo tipo di lenta guarigione può anche essere dovuto alla mancanza diciamoli insieme della vitamina D se hai il diabete e noti che le tue ferite ci mettono un'eternità a guarire dovresti prestare particolare attenzione ai livelli di vitamina D nel corpo secondo scienziati ed esperti medici come la dottoressa Nancy Munos dottoressa in nutrizione clinica la vitamina D può influenzare positivamente i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue e stabilizzarli le persone con diabete tendono ad avere problemi con entrambe queste cose quindi tenere d'occhio i livelli di vitamina D può essere particolarmente cruciale per la tua salute numero 7 noti che cadono più capelli del solito una persona media perde dai 50 ai 100 capelli ogni giorno sembra spaventoso vero? ma se soffri di carenza di vitamina D puoi perderne molto di più abbastanza da notare che qualcosa non va alcuni trattamenti per la perdita dei capelli utilizzano la vitamina D per combattere il problema ma anche cose come la genetica e altri disturbi potrebbero esserne la causa se perdi una quantità insolita di capelli è meglio consultare il proprio medico per trovare il succo del problema e non è un gioco di parole numero 8 non riesci a liberarti della tristezza la depressione non è uno scherzo molte persone che soffrono di depressione sperimentano una mancanza di appetito voglia di fare e, in alcuni casi, vero dolore fisico ma cosa c'entra la vitamina D con la depressione? in realtà un bel po' secondo Psychology Today la vitamina D è l'unica vitamina che ha anche un ormone una volta ingerita o assorbita attraverso la pelle la vitamina D rilascia neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina che hanno un forte impatto sul funzionamento del cervello negli studi sulla relazione tra vitamina D e depressione gli scienziati hanno scoperto tracce di vitamina sulle cellule trovate nelle regioni in cui risiede la depressione per questo motivo un trattamento che include una dose di vitamina D può aiutare a trattare la depressione e altri disturbi d'ansia in alcune persone naturalmente ci sono molte cause per la depressione e il caso per ognuno di noi è diverso ma se sorti di depressione o ansia è una buona idea parlare con il tuo medico della possibilità di una carenza di vitamina D ok, ora sai dove cercare quando si tratta di una carenza di vitamina D ma cosa puoi fare per ottenerne di più e impedire al tuo corpo di svilupparle una carenza in futuro? bene, mangiare cibi ricchi di vitamina D è un ottimo modo per iniziare gli alimenti che contengono vitamina D includono pesce grasso, come il salmone, aringa e sardine succo d'arancia latte di soia formaggio tuorli d'uovo funghi ostriche e gamberi oltre a includere più di questi alimenti nella tua dieta la vitamina D può anche essere ottenuta passando del tempo fuori secondo The Arthritis Foundation passare 10-15 minuti al sole a giorni alterni può aiutare a reintegrare i livelli di vitamina D anche sedersi vicino a una finestra aperta può aiutarti ad assorbire più vitamina D basta non dimenticare di essere consapevole dei danni del sole e indossare la protezione solare e gli indumenti corretti prima di uscire uno dei modi più semplici per ottenere più vitamina D è quello di prendere dei supplementi ma anche se hai alcuni sintomi in questa lista è importante non autodiagnosticarsi anche se sei abbastanza sicuro che hai una carenza di vitamina D dovresti sempre consultare un medico prima di buttare giù qualsiasi tipo di integratore vitaminico mentre la vitamina D contiene la parola vitamina ciò non significa che non possa essere dannosa hai mai sentito dire troppo di una cosa buona? sì, ottenere troppa vitamina D è possibile mentre il dosaggio con la vitamina D è piuttosto raro può succedere quindi presta attenzione alla sua assunzione i sintomi di un sovradosaggio di vitamina D possono includere nausea, stetichezza e confusione solo per citarne alcuni come per la maggior parte delle cose nella vita l'equilibrio è sempre la chiave sospetti che potresti avere una carenza di vitamina D? facci sapere quali sintomi hai riscontrato nei commenti qui sotto non dimenticare di dare a questo video un mi piace condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere sul lato positivo grazie a tutti